La cosa grave da questa foto non è tanto che la povera ragazza è rimasta incastrata coi capelli in un macchinario d'ufficio ma che una collega dalle unghie azzurre gli è sta scattata la foto perché non vede l'ora di rendere pubblica questa situazione imbarazzante E dai, e dai, e dai Benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro Pippo Calippo Per burrino più cresci al web Quello di oggi è la seconda parte di un video che ho già fatto sulle persone che hanno avuto una pessima giornata A lavoro, nel tempo libero, ovunque E se può viene pure in vacanza con te Sono episodi che se rovinano la giornata Sicuramente è capitato anche a voi Ma in queste foto va sicuro che troverete gente che sta messa peggio da voi Ma prima, se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche Ecco, questo era appena arrivato in albergo per passare il suo primo giorno di ferie O forse è un giovane che ha appena finito la scuola E le sue vacanze cominciano così Il trambolino ha deciso di non sostenerlo Fine della storia Questo furgoncino è rimasto ingastrato così Nonostante ci sia un cartello di divieto Beh, spero che questo cartello era presente anche nell'altro senso Una piccola svista che mi so sempre chiesto Ma come si risolve? Cioè, per tirarlo fuori o spacchi tutto il ponte Oppure smonti a pezzi il furgone Le regole sono importanti e mi raccomando Tutti coordinati alla perfezione E vabbè, oh, la mamma gli avrà lavato i pantaloni a 200 gradi Poi è normale che si rubano Non so come è potuto succedere Probabilmente questa pensata che il coperchio del frullatore è un optional Vabbè, però fa il pollicione Forse per lui è tutto normale Quando la vita ti vuole fa tornare a giocare con gli aquiloni Solo che ha deciso di portarsi via la tenda Ma non so se si capisce Ma in una fredda mattina Tu apri la porta di casa E ti ritrovino all'astra di ghiaccio Vabbè, è un motivo più che valido Per non andare a scuola o al lavoro Qui, tra 200 anni Quando si chiederanno come erano gli esseri umani oggi Studieranno questo reperto fossile E si chiederanno se davvero abbiamo avuto il coraggio Di inventare una cosa chiamata monopattino Beh, qui il toner dell'inchiostro ha deciso di festeggiare il capodanno in anticipo Così, de botto Diciamo che questo è un sistema comodo per paccheggiare due auto e risparmiare spazio Solo che te devi ricordare che sposta l'auto di sopra Questo potrebbe benissimo essere un film horror coreano Gli spazzolini di tutto il mondo decidono di prendere vita E di attaccare tutti gli esseri umani che li hanno usati e usulati ogni santo giorno della loro vita Se potrebbe intitolare La vendetta degli spazzolini assassini Sto gatto per richiedere attenzioni ci è andato giù pesante Non so come ma gli è proprio sfonnato lo schermo Allora qua abbiamo una mucca che ha sdiarreato per tutta la casa Ora mi chiedo Prima di tutto come sia finita qua dentro Perché mi pare davvero un appartamento Per il proprietario sarà stata una notte da leoni È successo di nuovo? Ma soprattutto come fa la mucca a produrre tutta sta merda? Non lo so, non lo voglio sapere Qui non è il momento di tornare a casa Trovi tutte queste api E l'unica cosa che puoi fare Da garabinieri di che t'hanno occupato a casa Oppure se vogliamo vedere proprio un lato positivo a questa foto È la vita che ti sta dicendo di cominciare a fare l'apicoltore Che bel ricordo di laurea Questa è la metafora della vita Cioè vuole di Hai studiato? Ti sei laureata? Ti sei impegnata? Ecco se pensi che fino ad ora la tua vita è stata insalita ed è stata dura Riparati a vedere il resto Perché non hai idea di quello che ti capiterà dopo Qui voglio chiedermi solo quattro cose Uno, se l'evento è accaduto a Roma Probabile Due, se la voragine è stata causata dall'auto stessa Tre, se il buco già c'era Ma perché ci avete messo un segnale? Quattro, spero che il signore di dietro che sta a scattare a foto Sia il proprietario dell'auto E non un passante che pubblicherà un post simpatico sui social E dico questo perché il proprietario dell'auto O è questo che sta a scattare a foto O è quello che ha scattato a foto che state vedendo Quindi in ogni caso il mio quarto quesito è giusto Vabbè che non lo sai che i mashmallows tirati fanno un figurino Indovina chi non getterà mai più una bottiglia di parmigiano Non protetta nella borsa del computer Cioè questa ci avrà la puzza di parmigiano sotto al naso Finché non cambia computer Qui una lastra di neve ha deciso di far cambiare l'auto al proprietario Succede Vedete? Queste sono tutte pulite E questa ha avuto un destino diverso La vita delle persone è bella perché è varia A questo gli è finito lo spazzolino elettrico Nel posto dello spazzolone per il cesso Oppure uno che è abituato a far così Poi per lavarsi i denti Un giorno usa lo spazzolino Un giorno usa lo spazzolone Allora questo ha intruppato col gatto Mentre scendeva le scale con una ciotola di cini Anche il gatto è sconvolto perché si sente responsabile A questo qui è quello che gli è scoppiato il toner Della fotocopiatrice di prima Penso sarà indelebile sta cosa Decidi di estenderti al sole Ma il sole su certe persone non perdura Qui abbiamo una caghella addosso a questa ragazza Ho trovata la foto con la cacchina già oscurata Però dai pixel vedo che doveva essere di colore verde o niva Qui c'è stata un'inondazione di cemento Che si sarà già solidificato Quindi quando devi consegnare la casa nuova Devi consegnare così ormai Se volivi il parker, il marmoliscio No, o così o niente Questo è un classico Quando è così lascia sta Trasferisciti direttamente in un'altra casa Beh, queste sono inondazioni che ti fanno sentire come in una cabina Con l'oblo in una crociera Cioè quasi uno se dimentica e apre la finestra Va a finire come il Titanic Così, de botto, pure qua E a chi gli è cadato nei quadri Così, senza motivo E a chi direttamente i soffitti E' una questione de karma Qual pacco di riso che doveva aprirsi E' spaccato tutto Ma mi chiedo solo Ma ando stava tutto sto riso Cioè, in un pacco gigante Era 5 paccani Questo video termina qui Spero che guardando queste foto Abbiate pensato Beh, oh, a me mi è andata meglio Per ora Se vi è piaciuto questo video Lasciatemi un like per sostenermi E se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi Attivate la campanellina delle notifiche Per non perdervi i prossimi video VAMBULÈ Per non perdervi i prossimi video I can do so much better So, so I can do so much better I can do so much better